fa da solo signore eh? si va da pure grazie buonasera buono victor hai già mangiato eh Rex mi ha messo il naso in del... dove? dove? in del bus perché mi vissi? va beh a seconda lui è meglio vai il gelato perché mi prendi da un cane il com'è il com'è il com'è il com'è ok security aprite vengo buonasera desidera? ci scusi siamo della sicurezza stiamo cercando due intrusi dobbiamo fare un controllo prego accomodatevi grazie ci scusi per il disubo prego prego ma che fai fermo mangione avanti mollalo victor molla il wirstel mollalo mollalo molla il wirstel victor mollalo mollalo dammi questo wirstel posa il wirstel hai già mangiato victor dammi il wirstel dammi il wirstel e basta con sto wirstel mi sta a strappare il pisello mio ma che c'è dalla vista in questo albergo quella che mi avevo tagliato tu mi avevo strappato mury Kesern so signori dove state andando e cercavamo la sauna fitness e ce l'avete ce l'avete la sauna è chiusa a quest'ora ma tu ti rendi conto ma che vergogna vergogna allora cerrizitiamo buonasera andiamo va ciao dai va che le mei la banda di culatoni qua